Musica Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di Teleregione, è 9 maggio, giorno della festa dell'Europa. Prima di leggere i titoli dei principali quotidiani oggi in edicola vi parliamo del gravissimo incidente che si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 17 nella zona di Campochiaro dove si è verificato uno scontro tra un auto articolato e un furgone. Tre i feriti, due dei quali trasportati in codice rosso in ospedale, si tratta di due uomini di 61 e 52 anni che sono stati soccorsi dall'ambulanza del 118 e poi portati al Cardarelli. Sul luogo dell'incidente la provincia del 52 che collega la statale 17 e la Bifernina a poca distanza dal centro di protezione civile regionale, anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Campo Basso. E ora la politica. Ieri pomeriggio c'è stata la conferenza stampa di costruire democrazia, il movimento di Massimo Romano. Roberto Gravina ha detto sarà il nostro candidato presidente, saprà interpretare e realizzare il nostro programma. Quindi pieno sostegno all'aspirante presidente del centro-sinistra. Sentiamo. La prima conferenza organizzata da Costruire Democrazia per lanciare le priorità programmatiche segna anche la scelta di campo del movimento che fa riferimento a Massimo Romano. Siamo sicuri che Roberto Gravina saprà interpretare il nostro programma, dice, rivolgendo al tempo stesso un pensiero di vicinanza a Francesco Roberti dopo il malore che l'ha colpito. Cinque anni per cambiare il nome scelto, racchiude le azioni da realizzare con più urgenza. Il ripristino del diritto alla salute, un piano straordinario di modernizzazione della macchina amministrativa, sono un esempio. Abbiamo stilato delle priorità perché il primo tema è la velocità. Questa è una regione che deve uscire da una condizione di arretratezza che richiede professionalità e competenze che abbiano la forza e la capacità di individuare il problema e di porre in essere le soluzioni non in un arco temporale di dieci anni, ma nell'immediato. Per fare questo occorre avere mani libere e avere le idee molto chiare. Devo dire che dal confronto con Roberto Gravina che abbiamo avuto oggi, mi sembra ci siano tutti i presupposti per poterlo fare. Su questo chiediamo un consenso ai cittadini molisani. La conferenza di Costruire Democrazia è anche la prima uscita ufficiale di Roberto Gravina con una delle forze della coalizione che lo sostiene alle regionali. Per noi costituisce una responsabilità. Il fatto che da parte di Roberto Gravina ci sia stata una sensibilità in questa direzione non può che confermare la bontà della sua designazione. Non il PD o il Movimento 5 Stelle, l'aspirante governatore preferisce il segmento civico dello schieramento, nei cui confronti esprime parole di elogio. Sarà una lista importante. Ci sono tanti punti, anzi direi tutti, seppur con delle sfumature diverse, tutti condivisibili, che tutti potranno chiaramente essere poi traspusi nel programma definitivo che verrà presentato. C'è l'ambizione in questo caso di portarlo avanti con dei tempi stretti e su questo chiaramente un po' sono condizionato dalla mia attività di amministratore conoscendo i tempi delle amministrazioni che non sono sempre così rapidi, però è chiaro che si deve partire con un obiettivo anche temporale. Uno scoglio fondamentale da affrontare sarà il risanamento dei conti dell'ente regionale, mentre per il rilancio del Molise Gravina cita l'esempio dell'Abruzzo. Soffriamo la nostra incapacità di crescere con invece una tendenza diversa che quella della regione Abruzzo che invece negli ultimi anni ha continuato ad investire in tanti settori. E tornano a parlare anche i rappresentanti del Terzo Polo in una nota congiunta Michele Di Bartolomeo, Nicola Di Lisa, Donato D'Ambrosio e Luigi Valente, rappresentanti di Molise al Centro insieme Italia Viva e Azione, comunicano che si dichiarano disponibili a dialogare con tutte le forze politiche che lo riterranno opportuno, si legge in una nota, al fine di dare il proprio contributo alla soluzione dei problemi della regione, il che potrebbe indicare un'apertura a Michele Iorio. E ora vediamo i titoli dei principali quotidiani oggi in Edicola. Cominciamo come di consueto con Primo Piano Molise. L'apertura dedicata al malore che ha colpito ieri Francesco Roberti, operato in emodinamica a prensione per Roberti. Accusato un malore, il candidato del centrodestra ha raggiunto il suo cardiologo, poi la corsa al Santimoteo e l'angioplastica per il posizionamento di due stent. Cautela sulle condizioni della porta, ci ho parlato, tornerà presto per la campagna elettorale. I messaggi di vicinanza da Gravina ed Em, passando per Iorio, ti aspettiamo. E poi in taglio medio, ancora la politica, Molise domani conferma restiamo fuori Iorio a Roma. La foto al centro della pagina è dedicata a costruire democrazia, ultima chiamata con Gravina possiamo cambiare, il Molise. Presentati gli assi portanti del programma Legalità, Sanità e Sviluppo. E poi la corsa a Rosa, Termoli indossa l'abito della festa e il Giro d'Italia non delude mai. Eolico a Miranda, otto aerogeneratori, la regione si adegua al Consiglio di Stato. A Brescia, pandemia, governo Conte a processo, Danilo Leva difende l'ex ministro Speranza. Vescovo di Larino dal 1726 al 1741, Ripa Bottoni, omaggia Giovanni Andrea Tria. Taglio basso, da Palazzo San Giorgio, opposizioni sul piede di guerra. Il sindaco deve dimettersi, Lega, Forze Italia, Fratelli d'Italia, Popolari e Misto, è stato eletto per amministrare. Il punto oggi, invece, porta la firma di Ramiro Baldacci, allarme demografico tra 50 anni, 107 mila in meno. I richiami sotto la testata dedicati allo sport, Rizzetta, puntiamo alla C, il presidente del campo basso, poi punge Gesuè, noi non scappiamo. Promozioni, il sapien Pietro in valle, vince e raggiunge il furtore in eccellenza. Basket, Serie C Gold, la New Fortitude, Isernia, perde in casa con l'Aquilano. Da primo piano Molise ai giornali abruzzesi, vediamo il centro, apertura dedicata alla cronaca. Ragazzi pestati fuori dalla discoteca, notte da incubo per due pescaresi all'uscita da un locale. Caccia alla banda. La foto al centro della pagina è dedicata alla tragedia sulla A25, schianto nella galleria sull'autostrada. Muore a 35 anni e poi il Giro d'Italia cresce l'attesa per la tappa sul Gran Sasso. In Abruzzo, 17.400 potranno ricevere l'assegno di 480 euro. Si parla di nuovi aiuti e poi fiumi, piano da 6 milioni per evitare le alluvioni. Dal centro al messaggero Abruzzo, apertura dedicata alla morte del 37enne. Cantiere in A25, muore 37enne. Fatale lo scambio di corsia in galleria per Daniele Casciato, imprenditore di pizzo ferrato e deceduto nello schianto frontale con un'auto articolato sull'autostrada all'altezza di Villanova. E poi Lanciano, pedoni falciati lungo il passeggio al corso, a processo l'investitore. Roma-Pescara è il giorno della conferenza dei servizi. In taglio medio l'attacco hacker all'ASL, ora è giallo sul riscatto. Ancora non quantificata la richiesta dei pirati che hanno violato la rete e spunta un altro caso. A Pescara, CUP senza assistenza, l'odissea dei pazienti. E ora vediamo i titoli dei principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola, gran parte delle aperture sono dedicate alla riforma costituzionale del governo Meloni. Riforme trattative a ostacoli. Titola Il Corriere della Sera. Oggi le opposizioni a Palazzo Chigi, l'ipotesi dell'elezione diretta del premier Bruxelles in pressing sul MES. Meloni, meglio se condivise, ma ho il mandato per farle. Fuertes lascia, si apre la partita. Rai e poi c'è un'intervista alla Casellati, scelta obbligata. Collaborino tutti. Festa del 9 maggio, Zelensky sfida Putin, celebro l'Europa. La foto al centro della pagina è dedicata a Meghan, la moglie di Harry d'Inghilterra, trekking in California, le vite parallele dei Windsor. E poi la tragedia di Foggia, Jessica e il fratellino nascosto dal divano. Il video ora è virale, ieri la confessione del padre, autore dell'omicidio a Torremaggiore. Dal Corriere della Sera a Repubblica, riforme al buio. Giorgia Meloni intende solo ascoltare le proposte delle opposizioni. Serve un legame diretto tra governo ed elettori. Sarà il primo confronto con Schlein, ma il PD è diviso sui colloqui. Qui la Premier cerca sponde con Conte e con il terzo polo. Rai Fuertes si dimette da Fazio a Damilano, le star a rischio fuga. E poi Mosca celebra la vittoria del 45, ma Kiev sarà festa dell'Europa. Corea, l'ultima schiava, voglio le scuse di Tokyo, è dedicata alla signora Lee Yong-so, rapita a 14 anni dagli invasori. La foto al centro della pagina. Da Repubblica al messaggero, apertura sempre dedicata alle riforme. I paletti del governo, scrive il messaggero. Meloni alle opposizioni, prima del tavolo, niente ostruzionismo, facciamo da soli. Cassesi alla sinistra, non rinneghi il merito. Rai Fuertes via, ribaltone in reti e Tg. E poi c'è questa foto del bus nel vuoto a Ravello. In 32 erano appena scesi. La comitiva di turisti evita la tragedia. A Ravello, morto l'autista. Jessica, il padre killer, voleva uccidere anche il figlioletto. L'uomo confessa e chiede come sta mia figlia. Il secondo genito si salva nascosto dal divano. E poi sotto la testata, medici in fuga, in corsia, arrivano i neolaureati. Sia gli specializzanti, orari ridotti, piano contro le dimissioni. Dal messaggero al tempo, l'altro quotidiano romano. Il PD ostacola le riforme. Questa la lettura. Governo al lavoro. Meloni aperta al dialogo. Parliamo, ma no alla ventino. Il mandato degli italiani. Schlein in vista del primo faccia a faccia col premier. Fa sapere che si opporrà a tutti. E dopo l'addio di Cottarelli, è lì sempre più in difficoltà a tenere unito il partito. Anche il tempo si occupa delle dimissioni della D-Rai. Via Fuertes parte il nuovo corso. E ora vediamo la prima pagina del fatto quotidiano. L'UE spara sulla PAX cinese e dirotta il PNRR sulle armi. Urgenza per spostare i fondi dal sociale alle munizioni. E poi, titoli sotto la testata, graviano i messaggi del 41 bis a Marcello. La DIA è Dell'Utri. Il boss nega. Fuertes piange però chiedeva 240 mila euro. La DDG lascia la RAI. E poi ci sono le dichiarazioni di Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle. Deve chiarire in vigilanza chi fa pressioni. Dal fatto quotidiano al manifesto. Il Gran Ballo è il titolo del manifesto. che parla della festa in Senato, 75 anni, invitando Morandi a cantare nell'aula. Si festeggia anche il compleanno della Costituzione che Meloni minaccia di cambiare da sola. Vorrei una riforma condivisa ma vado avanti comunque. Oggi riceve le opposizioni una sfilata. Tattica. Dal manifesto alla verità. Caldaie, sfratti e affitti. Chi ha una casa è perduto. La transizione green ci lascerà al verde. Non solo le auto, impianti di riscaldamento e condizionatori entrano nel mirino. Oltre che della UE, dei sindaci di sinistra, i quali vogliono anche impedire i cittadini di destinare le abitazioni a uso turistico. Il tutto in un paese dove ci sono oltre mezzo milione di alloggi occupati abusivamente senza che nessuno faccia nulla. E poi l'OMS decide pure sulle messe. Dopo la resa ai diktat si torna alla normalità. Dalla verità al sole 24 ore quotidiano economico che apre con questo titolo un nuovo BTP per i risparmiatori. Via all'offerta dedicate ai piccoli investitori, premio per chi non vende, durata di 4 anni e cedola crescente sul mercato dal 5 al 9 giugno. E poi alloggi universitari, corso ostacoli per i posti del PNRR. Incarichi, guardia di finanza, comando a Interim per De Gennaro, il CEO Fuertes, lascia la RAI. E infine la Gazzetta dello Sport, la vince chi passa, è il titolo della Gazzetta dello Sport di questa mattina. Vieri il derby e la Champions, Bobo è la sfida di domani, l'Inter è più forte, Leao è un mezzo Milan, sarà un duello lotteria, poi una volta in finale può accadere di tutto. E poi si parla del Napoli, giuntoli all'addio, la Juve Impressing prepara l'offerta. E ancora, i bianconeri e le plusvalenze, c'è stata slealtà, penalità ridotta, ma Europa a rischio. E con la Gazzetta dello Sport si conclude anche la nostra rassegna stampa. Prima dei saluti vediamo il palinsesto di oggi, alle 11 ci sarà la replica di fuoco incrociato, alle 12 viva la musica con Gigione, alle 14 il TG News, alle 14.45 torna l'appuntamento con un caffè insieme, alle 16 fuoco incrociato, alle 17 il teatro la Dodda de Cristinella, alle 19.30 ancora l'appuntamento con il nostro notiziario, alle 21 Paese Mio dedicato a Ripalimosani e alle 23 l'ultimo appuntamento con la nostra informazione. Ed è tutto con la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, arrivederci, buona giornata. Grazie a tutti! Grazie a tutti!